C'è un braccio di ferro che continua nel Gironia del campionato di promozione ed è quello tra il Bitonto, ora capolista solitaria, e lo Sporting Altamura, seconda a meno tre dalla vetta dopo la sconfitta in trasferta contro il Modugno. C'è un campionato però che parallelamente continua a mostrare realtà meno ambiziosi in termini di obiettivi ma comunque determinati a raggiungere l'obiettivo stagionale, vale a dire la salvezza. E' il caso ad esempio del Canosa, una squadra costruita senza spese folli ma che sin qui è riuscita comunque a ritagliarsi uno spazio decisamente dignitoso. 13 i punti in classifica dei rosso-blu di Giuseppe Scaringella, l'ultimo conquistato domenica scorsa sul sintetico amico del San Sabino contro il Corato. Partita terminata senza reti ma le emozioni non sono certamente mancate, due su tutte. I legni colpiti dai nero-verdi di Valeriano Losseto scesi in campo in maglia bianca. Il Canosa resta così nella parte centrale della graduatoria, il Corato conserva un posto tra le big del girone nel complesso, rimane in scia del terzo gradino del podio occupato proprio dal Modugno. C'è inoltre un Real Bat che è tornato a vincere, lo ha fatto in trasferta contro il Celle San Vito e un unione calcio-biceglie vittorioso in casa con il Carapelle che sembra aver archiviato definitivamente le incertezze d'inizio stagione. Niente scossa ancora invece per la Nuova Andria sconfitta nella decima giornata a Monte Sant'Angelo e domenica spazio alla sfida tra le prime due della classifica, Sporting Altamura seconda contro la capolista Bitonto. In programma anche il derby tra Nuova Andria e Nune Calcio-biceglie e lì incroci il Real Bat rutilianese, Corato, Bitritto e Carapelle Canosa.